Altare della pace dove vedete sulla tela alla base i due committenti della famiglia che indicano il momento centrale del Cristo che si mostra con addirittura i buchi nelle mani e il nome ridondante della famiglia pace lo ritrovate poi nel cartiglio in alto con il Pax Fobis dei due angeli che tengono il cartiglio dedicato ancora una volta al nome della famiglia.